Siamo gasati vero Franci? Guarda che cavallo! Sì, io! Vuoi dire di fare i video come un influencer? No dai, non posso farlo, hai detto veramente! I video da influencer li devo fare, scusami Franci! Perdona! Franci non sta se ha preso il cavallo giusto e siamo messi bene! Siamo messi molto! Ciao! 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 Vabbè basta Ma come li devo fare? Scusa me li fa così? Come dovrei farli? Scusa me li fa così? 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 Scusa me li fa così?